buongiorno a tutti siamo live potete mi date una conferma se sentite vedete gentilmente nella chat sì ok vedo delle risposte affermative ottimo buongiorno a tutti vi ringrazio per essere connessi oggi al webinar come sapete abbiamo il dottor rosato come ospite siamo molto grati di averlo qui oggi vi do solo un paio di informazioni tecniche sul webinar come vedete avete una live chat a sinistra destra del vostro schermo però per le domande che avrete alla fine della presentazione vi prego di metterle sotto nella sezione questions in modo che non vengano perse si sentite tutti si ottimo e se doveste avere dei problemi di audio e video c'è un tasto reconnect in alto a destra se cliccate li ritornerete al webinar per il resto io darei la parola al dottore e una visione buongiorno a tutti ben arrivati a questo webinar spero che siate tutti in buone condizioni di audio e video e quindi che possiate vedere effettivamente tutto quanto in questi tempi di coronavirus abbiamo fatto tanti webinar abbiamo fatto tante attività online così le persone potevano continuare diciamo ad informarsi ad approfondire alcune metodiche alcune cose interessanti che possono senz'altro aiutare in questi in questi momenti dove non ci si può incontrare fisicamente ricordo che l'ultimo corso è stato fatto proprio a febbraio la settimana prima della chiusura è stato un corso molto interessante con un sacco di persone che si sono divertite per l'ultima volta nel carnevale prima di questa nuova disavventura mondiale quindi io direi così mi presento ho visto alcuni di voi che hanno chiesto la mia amicizia e quindi evidentemente hanno già visto chi sono io sono un medico sono un odontoiatra sono uno specialista in anestesia e rianimazione quindi faccio sostanzialmente la terapia antalgica vengo proprio della terapia antalgica perché tanti anni fa ho trovato molto interessante poter curare la sciatica il mal di collo il mal di schiena il mal di testa un sacco di cose un sacco di dolori andando a curare soprattutto l'eziopatogenesi quindi le cause dei dolori e non più solo i dolori e questo mi è sembrato molto interessante così mi sono approcciato alla posturologia adesso diciamo che le cose sono andate avanti e abbiamo fatto un percorso anche noi culturale e professionale per cui diciamo che questo flow chart un po dice come mai siamo arrivati anche agli occhi e quindi abbiamo visto che l'occhio è sicuramente interessante e interessato dal sistema tonico posturale o sistema posturale fine a seconda delle scuole delle didattiche chiamato in nomi diversi ma questa di positiva mi è molto cara perché come è scritto in centro posturologia su misura cioè vuol dire che chi mi conosce sa bene io dico sempre che bisogna avere il coraggio di misurare di oggettivare di riprodurre quindi quello che noi facciamo deve essere scientifico e deve essere globale quindi noi andiamo ad analizzare tutto il corpo nella sua nessun insieme questo ci dice che noi dobbiamo fare un percorso nella nostra sia diagnostica sia terapia che va a prendere in maniera globale tutto il corpo quindi di solito io inizio dagli occhi perché gli occhi sono il recettore più importante adesso lo vedremo ma si potrebbe iniziare anche dai piedi deve essere però un percorso globale quindi andiamo a vedere subito mi piace dichiarare subito che cosa voglio fare e quindi gli occhi che sono come dicevo un recettore sicuramente uno dei due recettori più importanti probabilmente il più importante dovrebbero essere misurati in piedi ecco noi andremo a vedere una cosa nuova oggi in questo webinar e quindi la misura degli occhi in stazione eretta e in un ambiente aperto così pure gli occhiali di prova dovrebbero essere misurati in questo modo che non è usuale e come poi anche gli occhiali le lenti a contatto comunque le lenti devono essere cambiate in base all'uso e agli obiettivi quindi non sono sempre uguali un caso tipico a me molto caro è che durante lo sport agonistico il risultato può essere modificato dai muscoli degli occhi e dalle lenti e questo è appunto una modalità che noi adesso andremo a vedere la posturologia 4.0 la posturologia 4.0 è la postura della persona è la bio postura c'è un sistema nuovo che non ha niente di nuovo perché è la natura dell'uomo è l'epigenetica che ci porta a essere così come siamo perché è data dalla rete di relazioni che noi abbiamo di interconnessioni e adesso si comincia a capire subito perché è molto interessante l'occhio chi non ha sentito ancora questo termine posturologia 4.0 che adesso vi andrà fuori dagli occhi forse come visto che stiamo parlando proprio di occhi e lo volete approfondire perché siete a casa è uscito proprio in questi giorni che anch'io ho trovato questo tempo utile è stato fatto questo libro posturologia 4.0 che voi potete trovare online e vi arriva a casa col corriere così se qualcuno di voi non ha ancora aperto l'attività potrebbe magari ampliare quello che può essere una visione di insieme e quindi andare a vedere come sono gli occhi come sono la schiena come sono i denti la lingua il sistema vestibolare eccetera è un po l'insieme il 360 gradi senza dimenticare la parte cognitiva la parte ormonale e quindi proprio così un sistema globale cominciamo con verificare qual è la differenza fra postura e posturologia postura è l'effetto del tono muscolare del sistema miofasciale della struttura osteotendinea di sostegno che non si accompagna per forza un movimento e che ci permette quindi di stare fermi in posizione ortostatica e retta in opposizione alla forza di gravità ma anche in tutte le altre posizioni statiche e si completa nella concatenazione di postura di atti motori semplici che formano un atto motore complesso che il più complesso poi diventa la dinamica che è la concatenazione nel tempo mentre invece la parola posturologia si potrebbe così riassumere che è la disciplina medica che studia tutti i recettori che ci portano informazioni sia da dentro di noi sia da fuori quindi esorecettori e endorecettori come agiscono con che frequenze agiscono le ampiezze dei segnali quali vie di trasmissione elettrica chimica o digitale dove vengono elaborati nel cervello nelle aree nel cervelletto nei nuclei della base e tutte le risposte che noi diamo le relazioni le sinapsi i nuovi dendriti neuronali le strategie adottate e elaborate e quindi diciamo che è un sistema molto complesso ma personalizzato personale quindi vuol dire che seguiamo tutti le stesse regole ma siamo ovviamente tutti differenti noi siamo tutti persone diverse quindi mi è molto caro il concetto che si esce da una posturologia industrializzata da un concetto di industrializzazione della medicina della scarpa che va bene per tutti della soletta che va bene per tutti del libro che va bene per tutti di occhiali generici di cure ortodontiche standard e si e si entra in un concetto proprio di personalizzazione quindi vi faccio così una provocazione pensate se voi poteste studiare su un libro che viene costruito in maniera digitale intorno alla vostra persona i vostri interessi alle vostre materie che vi interessano ad approfondire quello che voi volete ecco questo è un concetto di personalizzazione molto interessante ecco la posturologia personalizzata è la posturologia che partendo da una oggettivazione misurazione standard riconosciuta e validata si arriva anche a una cosa che noi diciamo poco che è la parte cognitiva quindi anche il cognitivo al sociale agli ormoni al sistema affettivo quindi la posturologia della persona e non più la posturologia delle cose ecco ecco qui posturologia della persona mi rendo conto che è difficile però è molto bello è molto moderno è una cosa che ci può servire veramente per fare la differenza quindi se vogliamo la posturologia 4.0 e la posturologia delle persone la posturologia del mondo intorno a noi è la percezione sia cosciente che incosciente è la percezione la motricità il cognitivo quindi sostanzialmente la posturologia che siamo sempre nella definizione di questo termine non è una medicina complementare non è una medicina alternativa la evidence based medicine ci insegna con tutti i suoi limiti che ha è comunque l'integrazione delle migliori provi di efficacia clinica con l'esperienza l'abilità del medico i valori del paziente quindi oggi noi non individuiamo più solamente piccoli aspetti ma andiamo a cercare le cause e curiamo le persone rimuovendo le cause delle malattie delle patologie però quindi non solo nella condizione patologica ma anche nella condizione di salute quindi posturologia 4.0 è anche un sistema di fitness di salute quindi non è più solo un sistema medicale ma è un sistema per stare bene per stare meglio non è una medicina nuova non è un sistema nuovo non è un termine nuovo postura è vero è un termine molto di moda adesso tutti parlano di postura di posturologia ma già aristotele parlava di questa disciplina infatti diceva l'uomo è un bipede è fatto per stare in piedi è la prima osservazione posturale l'uomo è un animale sociale quindi deve comunicare per sopravvivere poter comunicare raffinare il nostro linguaggio vuol dire aver modificato la nostra laringe la nostra lingua il nostro sistema di una testa sopra il collo con delle corde vocali che hanno delle frequenze molto ampie che ci servono per cantare per fare la lirica per parlare per parlare tante lingue per modificare la dolcezza della parola con la persona amata ma non solo è l'intelligenza non è solo la conoscenza di qualcosa ma è la capacità di saperla applicare di saperla comunicare di saperla insegnare questo ci rende animali sociali animali che progrediscono la nostra specie sta progredendo ma la nostra specie progredisce perché noi siamo fatti così da un punto di vista posturale non solo aristotele anche galeno pensate nel 150 dopo cristo lui aveva sottolineato l'attività dei muscoli flessori del braccio della mano che sono differenti dagli estensori quindi aveva visto che la mano il braccio stava su era tenuto sollevato fermo fermo ma che vi era un'attività muscolare che sentiva come fare per tenere il braccio sollevato fermo che quindi contrastava la forza di gravità che avrebbe fatto cadere il braccio utilizzando il termine tono muscolare lui è quello che ha utilizzato il termine miopia da miops dal greco e quindi quella particolare parola che significa succhiudere gli occhi e se voi pensate come guarderebbe un miope quindi lui ha guardato come guardo miope e quindi il mio peso chiude gli occhi ecco che ha usato questa parola miope e quindi come questo sistema modifica la posizione della testa la posizione del collo la posizione del corpo ecco un'osservazione di postura quindi arriviamo a noi per dire che la considerazione è che noi siamo evoluti da un punto di vista epigenetico alla possibilità di mantenere il corpo in posizione ortostatica sia in dinamica che in statica quindi noi siamo capaci con questo sistema di controllo e quindi tutti i recettori che ci informano e ci consentono di controllare il nostro corpo adesso andiamo a fare un piccolo passo indietro e vediamo come ci siamo evoluti per diventare bipodalici quindi per poter stare in piedi è cambiata la posizione del forame magno diventato più centrale sotto il cranio e nel naturale prolungamento della colonna del midollo la forma della colonna vertebrale ha una parte lombare che sia accorciata per produrre una forma di s si dice s italica perché la colonna vertebrale non è dritta ma ha le cifosi le lordosi che serve comunque per portare mantenere la testa sopra il poligono di appoggio poi è cambiata la pelvi il nostro sacro è più corto più ampio per consentire all'attacco di una larga e potente massa muscolare che ci consente di camminare che ci consente di tenere tutta la parte superiore sempre dentro il poligono di appoggio la pelvi si è modificata e voluta come una forma di ciotola per sopportare il peso di tutti gli organi interni e di fatti tutti di me insomma tanti dimenticano che ci sono anche dei muscoli orizzontali un sistema orizzontale di cui il principale sopra che è il diaframma quello sotto che è la pelvi che il perineo il perineo per dire si contrae ad ogni nostro movimento otto millisecondi prima per poter impedire la perdita è molto importante questi sistemi di controllo sono automatici sono delle cose molto molto importanti il sistema del diaframma che ci fa respirare che è la chiave del parassimpatico che il sistema vagale è molto molto importante e nessuno di noi controlla la respirazione ma funziona sempre per ogni nostro respiro della vita il femore si è modificato con un allungamento con l'angolazione dell'asse dell'acetabolo e delle ginocchia questo ci consente un angolo di carico che ci riesce a mantenere il centro di massa sopra il poligono di appoggio tutte cose un po' difficili ma molto interessanti poi ancora si sono modificate le ginocchia cioè la parte terminale si dice distale del femore dentro l'articolazione del ginocchio termina si dice con un contraforte osseo chiamato condilo laterale questo ferma lo scivolamento laterale dei muscoli della coscia durante il cammino altrimenti il ginocchio non starebbe dritto il femore sopra la tibia e quindi chi pensa o erratamente pensa o non ha mai conosciuto che la parte mediale la parte laterale del ginocchio non sono uguali e non sono uguali per questo motivo una cosa molto cara a tutti i podologi ma che potrebbe essere molto interessante anche per tanti di voi che si interessano di occhi perché gli occhi vanno modificare i piedi adesso andremo anche a vedere ma poi chi vorrà approfondirlo potrà fare un corso ipostrologia o andare a guardare nel nel libro nuovo l'anatomia del piede si è evoluta per diventare una piattaforma di appoggio forma degli archi elastici l'arco interno esterno e anteriore per la dinamica quindi il piede è fatto per la dinamica è fatto per assorbire gli shock di contatto col suolo le dita sono corte la luce grosso e forte dalla spinta non è più fatto per arrampicarsi negli alberi perché a noi non ci interessa più ci interessa poter stare in piedi correre attaccare scappare ecco il nostro corpo si evolve si evolve ecco l'evoluzione dell'anatomia del piede dal piede dello scimpanze a quello umano queste sono le modificazioni epigenetiche si sono modificate le ossa si sono modificate tutte queste informazioni che arrivavano dal piede che controllavano il piede e quindi il punto di contatto al suolo nello svolgimento del passo dal retropiede al mesopiede all'avampiede il punto di stacco dell'alluce e quindi all'arco di spinta noi vediamo come l'australopideco camminava perché aveva un contatto al suolo diverso e quello nostro che si è sicuramente evoluto così noi abbiamo dimostrato in questo modo le ragioni genetiche funzionali per le quali la visione dovrebbe essere che è misurato in una postura ortostatica perché l'uomo è evoluto è evoluta la testa sopra il collo sopra il torace per stare in piedi sopra i piedi quindi se gli occhi si sono evoluti per stare sopra i piedi noi dovremmo misurare adesso andremo a vedere perché per come quindi la postura ortostatica e l'uomo è fatto per vivere un ambiente esterno e quindi un ambiente aperto e quindi si dovrebbe usare un ambiente con delle finestre aperte quindi adesso entriamo in mi piace dire entriamo nell'occhio ma se io non voglio insegnarvi niente siete tutti penso molto molto informati sul vostro sulla vostra professione sul vostro settore ma io così cercherò di farvi vedere l'occhio magari in un modo un pochino differente perché magari portate a casa qualche informazione nuova quindi la prima informazione è che l'occhio è il governatore gli occhi governano la parte orientativa del corpo quindi immediatamente voi capite da questo termine che il nostro corpo si divide in una parte superiore orientativa e in una parte inferiore adattativa compensativa quindi sono due parti diverse quindi vuol dire che l'occhio è il primo cosciente filtro di tutte le esperienze della nostra vita è come dire che tutto passa dagli occhi ma non è vero ci sono anche tutti gli altri recettori però noi abbiamo proprio la nostra esperienza di vita di tutti i giorni il fluire del tempo il tempo la quarta dimensione che passa dagli occhi ecco come noi adesso un po alla volta andremo a vedere tutte queste cose quindi le informazioni che passano dall'occhio il maggior numero di neuroni e di sinapsi nel cervello quindi più importante esorecettore è proprio l'occhio quindi dall'occhio passano le informazioni sul nervo ottico il 70 per cento delle fibre del nervo ottico sono per la visione il 30 per cento sono per il controllo della visione quindi noi dobbiamo tener conto di questo 30 per cento strano diciamo non vi insegno nulla perché saprete già tutto sull'occhio ma sostanzialmente quel 70 per cento di fibre ha un flusso posteriore dorsale e un flusso ventrale quello dorsale serve soprattutto per le informazioni del percorso per rispondere alle domande dove come quello ventrale per rispondere cosa come ma ci sarà tempo per andare a vedere adesso andiamo a vedere di più quel 30 per cento che ci interessa che è la parte proprio cettiva quindi è l'occhio proprio cettore la proprio cessione oculare quindi lo strumento proprio cettivo dell'occhio allora questo si comprende bene da alcune da alcune osservazioni interessante quella fatta da bertoz che ci consente di rispondere a tanti corsi a tanti corsi probabilmente tante persone fanno dei corsi di osteopatia dei corsi di fisioterapia eccetera dove tendono sempre a cercare di rispondere alla domanda quale recettore primario chi viene prima chi viene dopo ecco ma è interessante sapere che l'occhio è quel recettore che ci consente di anticipare qualsiasi movimento di 300 millisecondi l'occhio è il futuro il feed for viene prima di ciò che noi facciamo noi andiamo dove il nostro occhio ci porta ad andare quindi il numero la complessità l'area la modalità delle sinapsi ci consentono di dire che l'occhio è il recettore primario questo però si vede da tante altre cose molto interessante anche andare a tenere presente delle considerazioni che ne vengono che è che i vettori motori della parte superiore si intersecano nel centro di massa e quindi dagli esperimenti fatti da jean pierrot mio caro amico mancato alla fine del 2018 l'ultima lezione l'ha fatta nella nostra scuola l'occhio fa ruotare l'occhio fa ruotare il corpo sopra il centro di pressione quindi tutti quelli che si occupano di stabilometria di posturologia necessariamente devono imparare a conoscere i muscoli estrinseci dell'occhio quel 30 per cento di fibre che sono quelle che controllano questa attività ecco voi vedete adesso questi sono i muscoli estrinseci degli occhi a voi ho visto che tanti di voi sono ortotisti quindi riconoscono benissimo stra bene ma volevo farvi fare un piccolo ragionamento nuovo che forse nei vostri libri di ortotica non avete è che i muscoli si chiamano retti anche a me quando io ho studiato medicina mi hanno detto i muscoli sono retti perché sono dritti dalla parola latina rectus ma quello che ci interessa oggi vedere è che forse non sono più dritti non sono più retti come una volta e questo ci aiuta e ci prepara a capire perché l'occhio sia la base dei disturbi di apprendimento dei disturbi di correzione posturale di allenamento sportivo quindi l'occhio dovrebbe essere trattato in modo diverso e questo perché il muscolo retto mediale rispetto al laterale è più corto ai tendini più corti ed è attaccato più vicino al limbo non solo ma rispetto al laterale anche una base di attacco maggiore a un rapporto di elastina fibre e fibrina di fibre lisce diverso e quindi sostanzialmente non è più retto perché ha una puleggia mobile allora il fatto di aver visto che anche questo muscolo ha una puleggia ci comincia a dire che forse questo muscolo ha un'attività che ci interessa diversa allora qual è l'attività è che questo muscolo ha una connessione particolare voi vedete i nuclei vestibolari come sono connessi al muscolo retto mediale attraverso questi attraverso il nucleo del trigemino sono connessi al sistema muscolare sono connessi quindi al muscolo sternocleidomastideo al trapezio ma fino al solio il solio che è quel muscolo che ci tiene in piedi ma non solo questi muscoli sono molto interessanti perché insieme alla parte visiva sono necessari per come evoluzione epigenetica alla decisione attacco o scappo e poi ancora insieme al sistema vestibolare ci mantengono la preda in visione foveale o il nostro predatore in visione foveale sia che noi siamo fermi in movimento oppure entrambi in movimento e ancora molto caro a tutti quelli che fanno la scuola di vision trainer eccetera di flusso visivo quindi l'esperienza di scorrimento del movimento dei pennelli fotonici in movimento ci viene data proprio da questo sistema qua se noi non avessimo questo sistema che funziona bene non potremmo parlare così come siamo oggi di posturologia per fare un'analisi buona veloce approfondita di questo sistema c'è un software che ci può aiutare se voi vi prendete nota di questo software sprinter sprintware medical è un software che noi diciamo che vi aiuta prima durante e dopo prima perché è lo stesso software che si usa nella didattica è lo stesso software che si usa in ambulatorio è lo stesso software che noi usiamo anche per appunto i webinar per sapere come fare la diagnostica eccetera e segue anche la persona per esempio specialista nell'occhio durante l'analisi di parti del corpo non molto note come il piede i denti eccetera adesso passerò in maniera molto veloce delle cose a voi tra conosciute quindi ovviamente la prima parte deve essere quella visiva ma è molto importante la parte visiva perché questa è una tabella che ho modificato io di snelle ma l'unica differenza che ci sono i caratteri per i dislessici c'è una stella per la stigmatismo e un occhio disegnato per il puntamento per vedere qual è l'occhio dominante la attenzione vostra è su quella piccola linea che ho messo perché basta una differenza di visione fra l'occhio destro e l'occhio sinistro di due linee sopra linea rossa e di una sola linea sotto perché la visione vada a modificare la postura quindi sostanzialmente la parte visiva è molto interessante queste sono tutte le pubblicazioni tutto quello che io vi dico è tutto pubblicato quindi sostanzialmente non vi sto dicendo niente di inventato quindi andiamo a vedere una piccola cosa perché cercherò di essere ancora più veloce più breve perché si dovrebbe fare la visita in ortostatismo in piedi perché normalmente la refratomatria viene fatta da seduti e così gli occhiali di prova vengono fatti da seduti allora c'è la nota frase Houston abbiamo un problema cosa facciamo allora questa è una tesi che ho fatto con un lavoro di ricerca che ho fatto con uno dei miei studenti per fare questa prova e quindi noi abbiamo siamo partiti dalla considerazione di fare di trovare un sistema per misurare sia da seduti da in piedi per verificare la differenza allora anche con questo sistema abbiamo verificato le lenti di prova e quindi noi siamo andati a mettere a queste persone a 38 volontari 17 maschi 21 femmine qua ci sono i criteri di inclusione di esclusione ma a voi queste cose se volete approfondire si possono approfondire ma abbiamo misurato a tutti quanti mediante il kaleidos abbiamo fatto una misura da in piedi e da seduti quindi questo sistema è un rifrattometro binoculare mobile e analizza la visione un dispositivo che funge da camera oscura quindi ci consente di eseguire l'esame con qualsiasi condizione di luce quindi senza una reazione pupillare che dovrebbe essere se no altrimenti tolta con questo sistema abbiamo misurato tutte le persone e con il vision fit che è un apparecchio per la refrazione soggettiva elettronico mobile indossabile e quindi lavora in wireless e quindi non c'è un filo quindi la persona è libera di andare camminare sulla stanza la stanza dovrebbe essere possibilmente grande aperta con le finestre e quindi in posizione orto statica in piedi in posizione libera può guardare fuori della finestra gli alberi può guardare distante abbiamo posto tutti le stesse domande è meglio o peggio dei tuoi occhiali e a tutti è meglio la configurazione 1 o la configurazione 2 senza dire assolutamente niente ai pazienti ovviamente se no avrebbero saputo abbiamo ottenuto le misure questi sono i due rapporti che vengono generati automaticamente e così abbiamo avuto una distribuzione dei singoli parametri in conformità alla letteratura quindi nella pubblicazione di philip corp del 14 vediamo che siamo aderenti quindi non è un sistema strano tra virgolette i dati sono asimmetrici a sinistra c'è la condizione di seduto che ha una dispersione leggermente maggiore dei rilevamenti nell'occhio destro rispetto a sinistra e i dati per l'astigmatismo hanno sempre il valore massimo di zero c'è per occhio non astigmatico ma questo direi che per chi è del settore è ovvio questi sono tutti i dati quindi non c'è niente di strano se non il fatto che vi invito a guardare nella parte bassa che così vi ingrandisco e vedete che la P di veridicità statistica di differenza statistica è una statistica molto grande perché è sicuramente inferiore di 0,01 che sarebbe confidenza statistica del 95 per cento quindi in questo modo voi capite bene che noi abbiamo così dimostrato che il chi quadro ci dimostra che la differenza statistica è nel 78 per cento delle persone migliore la posizione in piedi che è anche percepita dalle persone quindi non è solo una condizione misurata ma è anche percepita e quindi abbiamo poi fatto anche la misurazione del tipo di occhiale migliore che sarebbe per il paziente ma questa è un'altra storia perché comunque chi lavora con l'ottica sa benissimo che si deve fare queste cose arriviamo velocemente alla conclusione sarebbe probabilmente opportuno misurare gli occhi in piedi quindi in condizione ortostatica e sarebbe forse meglio poter indossare un occhiale di prova per poter valutare la visione in piedi in ortostatismo liberi di camminare nella stanza guardare fuori della finestra sedersi leggere e quindi in tutte quelle condizioni che sono la vita normale un'ultima cosa interessante perché ho visto che alcuni di voi fanno gli gli occhiali per gli atleti è che oggi molti atleti usano le stesse lenti a contatto che gli sono state prescritte per la vita di tutti i giorni mentre invece noi adesso stiamo facendo abbiamo fatto un lavoro stiamo facendolo pubblicandolo in cui vediamo che la visione misurata in ortostatismo permette un gesto atletico migliore e che la misura della lente dovrebbe essere fatta nella condizione atletica e quindi l'occhiale o le lenti a contatto che utilizzavano normalmente sono diverse dalle lenti a contatto specifiche per ogni tipo di sport e per ogni tipo di gara adesso lo stiamo facendo con gli atleti della serie b di pallavolo e per finire una cosa velocissima è che se volete vedere bene cosa fanno gli occhiali o le lenti a contatto sulla postura le dovreste misurare da sotto i piedi mediante uno strumento che è la stabilometria quindi se voi usate tutti questi sistemi ottici funzionali eccetera voi vedete come gli occhi cambiano nella parte funzionale nella parte ottica la visione e la parte proprio cettiva l'occhio proprio settore ma se voi misurate da sotto i piedi vedete la risposta di tutti i vettori che scendono al suolo che sono quelli della postura della posturologia ecco se qualcuno è interessato io eventualmente vi posso dare un link dove potete trovare il libro i corsi se qualcuno è interessato si può si può insomma ci sono dei dei modi per approfondire questa questo piccolo webinar vedo oggi che abbiamo fatto grazie dottore lo stato per la presentazione per quanto riguarda il link che ha nominato ora lo lascio io in live chat a tutti in modo che lo possano vedere subito e link alla pagina sprintit.net che è l'ente che organizza i corsi per tecnologia invece se volete maggiori informazioni sugli strumenti che ha menzionato ora il dottore potete andarli a vedere sul sito adattica.com al momento abbiamo una promozione in corso che vi linko adesso dovreste riuscire a vederla nello schermo in alto lì c'è il link vi rimanda direttamente al sito per maggiori informazioni su questo fate riferimento al distributore italiano di cui trovate informazioni sempre su adattica.com ora se avete le domande io vedo che ce ne sono già un paio quindi dottore se vuole rispondere intanto lascio il link a sprintit in chat sì allora la dominanza oculare che può essere una dominanza visiva può essere una dominanza percettiva ci sono varie dominanze ovvero la lateralità e quindi sarebbe come la lateralità della mano destra della mano mancina così nell'occhio si può misurare in vari modi un sistema che voi trovate appunto in quel sito che vi ho detto prima ho spiegato dentro nel libro con le varie fotografie è fatto con un plexigas trasparente che viene posto tra le mani allungato aspettate un secondo ve lo faccio vedere allora se voi allungate questo plexigas e fate guardare quell'occhio che c'era nella mira ottica che avete visto prima la persona seglierà l'occhio dominante visivo e poi se voi volete farlo percepire la persona dovreste dire chiuda l'altro occhio e quindi siccome voi vedete se è il destro o il mancino o il sinistro la persona resta nel buco quando cambiate l'occhio vede che non passa più per il buco ma ce ne sarebbero tanti altri c'è un sistema del tubo si può mettere una visione dentro un tubo si può guardare dentro un cappuccio ci sono tanti modi però i sistemi vecchi quelli fatti su una carta col buco dove non si vede attraverso hanno più falsi positivi quindi è un sistema che ha un errore implicito maggiore quello col tubo quello col plexigas sono quelli che hanno l'errore inferiore l'altra domanda che vedo qua è il kaleidos non dà un effetto tubo ma è un effetto di camera oscura è vero che si elimina la visione periferica ma questo non è per noi un obiettivo quello della visione periferica in quel momento la visione periferica la facciamo con le corde di cox modificate che si chiama stereo trainer stereo trainer e se voi mettete questa parola esercizi di stereo trainer vedete come utilizzo avevo preparato dei filmetti ma purtroppo su questa piattaforma non si vedono come alleniamo i reggbisti i tennisti quelli della pallavolo della pallacanestro con delle corde di cox modificate che sono delle corde fluorescenti di 9 metri di lunghezza a marcuglia è una persona che lavora già nella posterologia da molti anni allora sulle lenti degli sportivi allora si apre una apre una piccola parentesi io non sono un oculista io sono un anestesista è usanza dare dare insomma prescrivere degli occhiali delle lenti che non sono esattamente come ciò che noi abbiamo misurato quindi si potrebbe dire sono sempre un pochino sotto corretti quindi si fa una vita un po sotto corretti ci sono tante modificazioni c'è anche una parte che di tradizionale prescrizione non vorrei entrare in polemiche su questa cosa qua però nella parte agonistica nell'agonismo che è per un piccolo periodo di tempo della vita di una persona non si deve stare sotto corretti ma qualche volta neanche corretti semplicemente giusti ma si deve favorire uno sport a seconda se il biliardino è una visione da vicino ma se la pallavolo è una visione a 9 metri se la pallacanestro è una visione a 10 12 metri se la formula 1 è una visione certamente oltre i 100 metri non ci interessa leggere a 14 centimetri dalla punta del naso mentre guidiamo una formula 1 e avanti di questo passo così come ci sono occhiali particolari e denti particolari per andare in aliante per vedere i pannelli i pennelli di aria degli occhiali particolari per andare a fare un altro sport che è la pesca ecco ci sono delle lenti particolari a seconda dello sport qua piovono le domande beh ci andami intanto ti saluto ma tu stai dicendo esattamente le stesse cose che dico io che stavo dicendo prima marcuglia sì noi facciamo la rilevazione sia durante la performance sportiva che in posizione sempre in posizione ortostatica ma poi misuriamo la performance sportiva con le lenti differenti quindi è come dire una cosa che tutti sanno eh cosa si interessa nel calcio che scusate dalla dalla posizione del tiro del rigore fare gol quindi noi chiediamo all'allenatore per esempio di far misurare ai loro tiratori più abili se migliora la prestazione del loro tiro in porta oppure se prendiamo il libero della pallavolo se migliora la prestazione di difesa o di ricezione del libero se fa una ricezione più più si dice in termine tecnico eh beh l'ultima domanda l'avevamo già risposta prima i miei corsi sono se voi mettete il mio nome trovate anche i corsi non so se se possiamo dire ma va bene insomma comunque i miei corsi sono fatti da sprint it per quelli che fanno scienze motori anche l'università di urbino eh un po' di tesi di ricerca li abbiamo fatti qua all'università di Padova e comunque adesso che siete tutti brevissimi da un punto di vista tecnico basta che andiate in internet e trovate tutto Engie? Pronto? Ci sono altre domande sotto le leggo ad esempio sempre da Dino avete provato ad associare la valutazione della performance in funzione alla selezione di un filtro colorato? Sì allora gli occhiali a glifi eh ci fanno fare la differenza soprattutto nella visione periferica che eh interessava prima qualcuno fra l'occhio destro e l'occhio sinistro quindi la spazialità quindi la fusione quindi lavoriamo per la massima fusione usando dei sistemi multipli a due o a tre e con due o tre allenatori noi andiamo a allenare la velocità di risposta quindi noi diciamo che siccome questi sono dei riflessi i riflessi non si imparano ma si evocano quindi si evocano i riflessi quindi si evocano nella velocità e siccome la velocità dell'occhio è molto interessante perché possiamo anticipare l'azione abbiamo visto prima di 300 millisecondi poter cambiare l'azione in avanti nel tempo vuol dire anticipare la risposta e anticipare la risposta da un punto di vista agonistico è quello che fa vincere sì sono d'accordo che bisognerebbe ehm far girare la persona in negozio eh dopo aver indossato l'occhiale di prova oppure le lenti a contatto di prova se provate le lenti a contatto eh però ecco sulle lenti a contatto ci vuole del tempo eh cioè non è che potete mettere una lente a contatto e immediatamente dovete aspettare che l'occhio sia adatti ci sono dei sistemi di adattamento sia ottici che muscolari quindi dovete aspettare un po' di tempo anche un bel po' di tempo mandate la persona a farsi un bel giro eh oppure il pomeriggio lo tornate a fare delle valutazioni ci sono altre domande se non ce ne sono altre io approfitto intanto per ringraziare nome di adattica lei dottore per aver condiviso quest'ora insieme a noi e anche tutti i partecipanti per essersi iscritti e avere partecipato anche loro alla discussione al webinar per maggiori informazioni vi ho lasciato già i link in chat comunque i siti su adattica.com e sprintit.net il primo per gli strumenti il secondo per i corsi di posturologia e se non ci sono altre domande vedo le persone che iniziano a ringraziare quindi io chiuderei vi ringrazio tutti vi auguro una buona continuazione della vostra giornata. Grazie a tutti e buona giornata a tutti quanti.